Ora ridotta, ora, da decenni ridotta in uno stato di degrado assoluto, impressionante. È davvero traumatizzante vedere una realtà si fatta in uno stato di decozione incredibile. Lo dico ora che stiamo in inverno e quindi ci sarebbe ancora, anche se non è facile perché consideriamo tutti i passaggi burocratici, ci sarebbe ancora il tempo per far sì che questa realtà, almeno per l'estate, l'auspicio è che possa avere così un aspetto migliore di quello che è attualmente. Decenni fa questa spiaggia era davvero il fiore all'occhiello di Taranto e potrebbe tranquillamente tornare a splendere di quell'antico splendore. È triste ora vedere una pineta completamente abbandonata con quei manufatti ridotti a ruderi, alberi che non vengono curati e quindi seccano e vediamo crollare rami e tronchi e poi vedete alle mie spalle quella che era la parte esterna, l'entrata, l'ingresso della struttura. Ora vedete, sembrano quasi, per così dire, i resti del Colosseo. Questa è Taranto, purtroppo, questa Taranto ridotta così. Noi, torno a ripeterlo fino alla nuia, noi dovremmo vivere soltanto di turismo e il turismo potrebbe essere davvero lo strumento, il veicolo, in grado di sfamare quelle bocche che ora sono costrette a lavorare in ILVA. Un ILVA che, come ho già detto, va chiusa se e senza ma, un ILVA che è uno strumento e una fabbrica di morte. Beh, le alternative ci sono. Ma immaginate il flusso turistico locale, regionale, nazionale, internazionale che si potrebbe creare in questa zona. E allora come potete parlare di dramma se chiude l'ILVA, quando invece il vero dramma è avere queste strutture meravigliose, splendide, ridotte però purtroppo in uno stato assoluto. Da decenni passano le amministrazioni, passano i governi, eppure quest'area, come dire, regredisce sempre più, va a finire in uno stato di penoso e ancora più incancrenito degrado. Vedete, le immagini parlano da sole e soprattutto penso alle persone che hanno vissuto lo splendore di Mare Chiaro, che certamente questa gente avverte come un colpo al cuore vedere una struttura, una realtà del genere così abbandonata. Abbiamo le perle, abbiamo le ricchezze, ma non sappiamo valorizzarle. Anzi, chi ci amministra le affossa. Per cortesia, salvate Mare Chiaro, salviamo Taranto. Attraverso il turismo, sia al mare, sia alle nostre spiagge, sia a Mare Chiaro. No all'industria assassina, no all'ILVA assassina, no ai decreti, ammazza Taranto e salva ILVA. Grazie. 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 Grazie.